Complimenti, complimenti, complimenti allegri, grazie per lo schifo che ci continui a far vedere ogni partita Io ti ringrazio, ti ringrazio dal profondo del mio cuore per dirti che sei un asino di merda Sei un asino di merda, manca poco, manca poco e ti saluto con lo sfumante, manca poco Partita veramente brutta ragazzi, partita vomitevole, stessa prestazione di tutte le altre partite Continua a vedere una squadra senza un gioco, senza anima, giocatori che vanno in campo non sanno cosa fare Non sanno fare un passaggio, non sanno tenere la palla, una squadra in stato confusionario Ci siamo fatti prendere due gol da polli, da polli, da Castellanos ragazzi, da Castellanos Il primo su una cazzata di Alexandro e Alexandro ragazzi si commenta da solo Il secondo un'imbucata su un filtrante, cioè veramente, neanche nei dilettanti vedo una cosa del genere Neanche nei dilettanti È entrato Milik e la Juventus ha fatto un tiro in porta a 90 minuti dove ha fatto il gol della finale Ha fatto più Milik in 10 minuti che Blaovic in 80 minuti, questo lo dico Sapete che se io dico una cosa la dico, anche se io stimo tantissimo Blaovic Male McKennie, McKennie, continuo a sentire che McKennie è un ottimo centrocampista McKennie è veramente scarso e questa sera ne è stata la prova Prestazione veramente indegna Io continuo a sentire gente idrolatrare Hildiz Adesso è sinistra ma Hildiz non è tutto fenomeno Voi vi state facendo State tornando indietro con la mente per i gol che ha fatto mesi fa Se giochiamo così sabato con Milan ne prendiamo tre anche se Milano non ha difesa Quindi dove cazzo vogliamo andare ragazzi? Ma dove cazzo vogliamo andare? Dove cazzo vogliamo andare? Siamo in finale, a me dalla finale della Coppa Italia non me ne frega un cazzo Io voglio vedere una squadra che gioca a pallone Io voglio vedere una squadra che quando va in campo sa cosa deve fare Sa cosa deve fare Sa cosa deve fare Questi quando vanno in campo non sanno che cazzo devono fare Poi io sono a favore di Cambiaso Cambiaso doveva mandarlo a fare in culo sto asino di merda Cambiaso doveva mandarlo a fare in culo A fare in culo perché è uno dei migliori in campo E siccome questo non è i coglioni Non è i coglioni Perché quando uno è migliore in campo lo tira via Perché si caga addosso Perché è un caga sotto di merda Cambiaso dovevi mandarlo a fare in culo A fare in culo Ma sto asino di allenatore E c'è ancora chi difende questo asino Adesso perché Allegra va in finale Tanto che sia la Fiorentina o l'Atalanta Ne pigliamo tre Ne pigliamo tre E io godo perché a me dalla Coppa Italia non me ne frega un cazzo Per me la Coppa Italia non è neanche un trofeo Per me la Coppa Italia dovrebbero Azzerarla Dovrebbero toglierla Perché non vale un cazzo Un trofeo che non vale un cazzo Sicuramente ci saranno gli allegriani Grande Max C'è partito in finale Invece di pensare allo schifo Allo schifo Che abbiamo visto anche oggi Perché oggi è stata veramente una partita Orribile Orribile sotto ogni punto di vista Quindi ragazzi Vi invito a iscrivervi al canale Lasciate un like Lasciate un commento Forza Juventus Sempre Fino alla fine Noi ci vediamo sabato Che sarà una partita tosta Che se giochiamo così In questa maniera Non si va da nessuna parte ragazzi Teniamo duro Che finalmente Finalmente la fine Di questo asino Sta arrivando E poi Speriamo che arrivi un allenatore Che sappia Insegnare a questa squadra A questi giocatori E ai nuovi Che arriveranno Che insegni calcio Perché io da tifoso Mi sono veramente Rotto i coglioni Di vedere una squadra Allenata Da un figlio di puttana Che se lo incontro Per strada Ti faccio una GTS Ti faccio una go to sleep Targata CM Punk Brutta merda Impara Vai a studiare Come si allena una squadra Vai a studiare Vai a studiare Vai a studiare Che tu di calcio Non capisci un cazzo Ci stai portando Alla rovina Ci stai Distruggendo In primis Noi tifosi Ci stai Portando All'esasperazione Alla disperazione E a te Non te ne frega un cazzo Ma tanto manca poco Manca poco E finalmente Saremo liberi Fino alla fine Forza Juventus